Quando mi sono alzata sono andata fuori nella cesta dove Tenti va sempre a dormire la Giulietta era nato i gattini e l'ultimo era sempre attaccato con la faccetta allora poi li abbiamo presi con margherita e abbiamo cambiato la cesta ho paura no vabbè Giulietta no no te ferma dove fare così